Aveva propagazioni anche sul territorio salernitano il nuovo Clambatti, una nuova organizzazione mafiosa armata operante nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, zone vicine e che vedeva impegnate 11 persone arrestate oggi dai carabinieri del nucleo investigativo di Torri Annunziata e di finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria di Salerno. Al lavoro la direzione distrettuale antimafia che a vario titolo ha portato in carcere e domiciliari le 11 persone. Le accuse nei loro confronti vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso all'estorsione e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio nelle operazioni di approvvigionamento illecite secondo l'inchiesta sono stati coinvolti degli operatori portuali di Salerno incaricati dal gruppo camorristico nel gennaio 2015 di agevolare l'uscita dal porto di Salerno di un container frigo proveniente dall'Equador con un carico di banane ma che in realtà celava un grosso carico di droga. Qualcosa allora andò storto ed i due dipendenti di una società di spedizione non riuscirono a recuperare la droga che rimbarcata finì su una nave ed arrivò a Rotterdam. Il sequestro è avvenuto proprio nel porto olandese da parte dei finanzieri del Gico di Salerno che recuperarono 40 chili di cocaina per un valore di un milione 200 mila euro. La perdita dell'ingente carico generò però la reazione di Alfredo Batti a capo dell'organizzazione che pretendeva di essere risarcito dei danni per la perdita dello stupefacente. Le successive pressioni e minacce perpetrate anche attraverso pestaggi ed esplosione di colpi d'arma da fuoco costrinsero uno degli indagati a vendere la propria abitazione per recuperare il denaro perso. Altri interventi hanno visto ulteriori sequestri. A maggio del 2015 a Padova su un auto articolato proveniente dalla Spagna furono recuperati 40 chili di marijuana e l'organizzazione non disdegnava neanche le sigarette di contrabbando provenienti dal Nord Africa. L'attività investigativa ha preso spunto dai tentati omicidi di Luigi Avino e di Mario Nunzio Fabrocini in un'area tradizionalmente controllata dal clan Fabrocino, inducendo a ritenere che fosse nato un'alterazione degli equilibri criminali su tutto il territorio. L'inchiesta, durata quasi due anni, è stata sviluppata non senza difficoltà dovuta anche ai continui accorgimenti e precauzioni adottate dagli indagati.